Signore e signori buonasera e benvenuti sul muro del pianto. Le radiazioni dei telefonini fanno effetto come l'alcol. Si deve fare attenzione solo in macchina usando il telefonino. Durante dei controlli di polizia è stato constatato che dopo aver fatto una chiamata col telefonino si può paragonare il grado di prontezza di reazione con lo 0,8 per mille dell'alcol. Allora, perché non si interviene contro le radiazioni dei telefonini con la stessa rigorosità come contro l'abuso d'alcol, nei cui casi si rischia di perdere la patente con lo 0,8? L'alcol non è servito dappertutto, ma le radiazioni dei cellulari sì. Buona riflessione e alla prossima puntata.